buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di gradatore d'istituto di terza fascia ata per il triennio 20 24 2027 ovvero sia per gli anni scolastici 2024 25 25 26 e 26 27 prima domanda buongiorno da poco tempo ho fatto domanda per la gradatoria della 24 mesi ata profilo collaboratore scolastico nella provincia x dove ero già iscritta anche in terza fascia ata adesso vorrei fare domanda per la terza fascia ata nella provincia y come devo procedere si puoi fare la domanda per la provincia y e quindi lasciare la provincia x ma verrai depennata dalla nascitura gradatoria dei 24 mesi per il profilo di collaboratore scolastico proprio della provincia x che avevi da poco richiesto con la domanda che scade il 30 di maggio 24 o meglio che è già scaduta il 30 di maggio 24 per fare questo all'atto dell'inserimento del titolo di eccesso dai vari profili dovrà indicare una modalità di accesso diversa da quella nel tuo specifico caso sarà la modalità di dove dichiari di essere consapevole del tuo dependamento dalla gradatoria 24 mesi della provincia x che per fare trasferimento per fare trasferimento in quella y domanda numero 2 ho conseguito da poco tempo due titoli informatici che sono lei passa sette moduli e le cdl advance posso dichiarare il primo come certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per tutti i profili per cui ho titolo nella terza fascia ata e il secondo titolo come ulteriore titolo informatico lei passa sette moduli e un titolo che rientra nella certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e deve essere dichiarato per tutti i profili per cui si richiede l'accesso fatta eccezione per il profilo di collaboratore scolastico mentre le cdl advance e titolo da inserire tra le certificazioni informatiche per ogni singolo profilo domanda numero 3 sono già inserito nella gradatoria di terza fascia ata del triennio 2021 2024 non devo inserire nuovi titoli e nuovi profili non ho intenzione di cambiare provincia posso evitare di compilare distanza per il triennio 24 27 no devi comunque presentare l'istanza utilizzando l'opzione conferma per ogni profilo dove eri già presente devi anche compilare la sezione preferenze anche quella di altre dichiarazioni se non fai questo sarai esclusa dal gradatore di circolo e di istituto 2024 2027 vi ringrazio per l'attenzione spero che queste domande siano utili ai nostri telespettatori seguitici nei nostri canali social facebook e youtube perché in questo periodo andremo a fare proprio delle dirette mirate alla compilazione della domanda per la terza fasciata per le gradatori di istituto e di circolo di terza fascia ata 2024 2027 arrivederci a tutti